Fortunatamente non è in pericolo di vita il neonato ustionato al ruggi di Salerno, immerso dalle operatrici del reparto maternità nell'ospedale salernitano, per il consueto bagnetto postparto in acque a temperatura troppo elevata, che avrebbero causato ustioni sul 50% del corpicino dopo il lavaggio. Il piccolo è stato trasferito al Cardarelli di Napoli, dove è presente personale specializzato a trattare casi del genere e non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma le sue condizioni restano gravi. Sulla vicenda anche la Direzione Generale ha subito avviato le procedure del caso per individuare i responsabili e procedere alle eventuali sanzioni necessarie.